E' già sold out la tappa siciliana da Grigento, nonché penultimo appuntamento del Tommy Summer Tour 2022, il tour di Tommaso Paradiso. Lo comunica anche lo stesso artista sui social. Non ci sono più biglietti a disposizione dunque per poter assistere al concerto del cantautore di origini romane, che è stato il frontman dei De Giornalisti e da qualche anno ormai intrapreso la carriera da solista. Si esibirà sul palco del Teatro della Valle dei Templi questo sabato 27 agosto, lì dove in queste settimane si stanno susseguendo diversi eventi tra musica, arte e divertimento e che rientrano nel ricco calendario di appuntamenti di destinazione a Grigento estate 2022.